Manna, cosa è emerso, Sindaco Cedda, da una riunione con la Municipalità? I lavori prima o poi finiranno, sta per partire l'ultimo lotto, il suo intento è quello poi suggerimento, cambiamo nome, non chiamiamo nome Barracca? È una battuta, ovviamente cambiare i toponimi poi diventa difficile, in alcuni casi contro producenti. Diciamo che dal nome Barracca Manna la riqualificazione sicuramente porterà solo il ricordo col nome di un luogo sorto in modo spontaneo e non riqualificato. I lavori sono in corso, abbiamo trovato le risorse anche per le progettazioni delle ultime strade, quindi ci auguriamo di poter consegnare la conclusione di tutti i lavori su tutte le strade nell'ambito della consigliatura. Quindi entro la seconda consigliatura comunale sua? Entro questa consigliatura, sì. Al di là della battuta, Sindaco Ceda, però può esserci davvero l'intento di modificare il nome non più Barracca? Questo lo deciderà la municipalità di Pirri, tenendo conto che poi molti dei lavori sono anche in un territorio che va oltre i luoghi chiamati Barracca Manna. Però il suo desiderio che ha espresso anche oggi Sindaco Ceda è quello di levare Barracca? La battuta è che ci sia il ricordo, il ricordo insomma, che invece sia un luogo riqualificato.